Ludovico Ariosto Ludovico Ariosto nacque a Reggio Emilia nel 1474, figlio primogenito di Nicolò, funzionario degli Estensi, e di una nobile donna, Doria Malaguzzi Valeri. Tra il 1489 e il 1494 studiò diritto, poi si dedicò esclusivamente agli studi letterari, sotto la guida del monaco agostiniano Gregorio d'Aspoleto, ricevendo una buona educazione umanistica. Nel 1500 rimase orfano del padre e fu costretto a interrompere gli studi per occuparsi della numerosa famiglia e dell'educazione dei suoi nove fratelli. Nel 1503 entrò al servizio del cardinale Ippolito d'Este, fratello del duca Alfonso, e prese gli ordini minori per motivi economici. Fu impegnato in varie ambascerie, a Firenze, a Mantua e più volte a Roma presso Papa Giulio II. Nel 1516 uscì a Ferrara la prima edizione del suo Orlando Furioso con Dedica a Ippolito d'Este. L'anno seguente, però, egli si rifiutò di seguire il cardinale nella sede arcivescovile in Ungheria, ed entrò al servizio del duca Alfonso d'Este nel 1518. Nel 1522 poi accettò l'incarico di governatore della Garfagnana, allora infestata dai briganti. Nel 1525 però tornò a Ferrara, dove, tre anni più tardi, sposò segretamente Alessandra Benucci, vedova dell'amico Tito Strozzi. Qui morì il 6 luglio del 1533. L'attività letteraria Ariosto iniziò la sua produzione letteraria con versi in latino e in volgare. I carmi latini furono scritti soprattutto nel periodo fra il 1493 e il 1503. Alcuni sono esercizi scolastici, altri imitano Virgilio, Tibullo, Razio e Catullo e sono rivolti a figure femminili o agli amici più cari. Per quanto riguarda le rime in volgare, mai ordinate e pubblicate dall'autore perché ritenute insoddisfacenti, sono per la maggior parte di argomento amoroso e in stile petrarchesco. Si tratta di 5 canzoni, 41 sonetti, 12 madrigali, 27 capitoli, 2 egloghe, che si presentano tutti come componimenti d'occasione, testimonianza del coinvolgimento di Ariosto nei fatti del proprio tempo. Un posto di rilievo occupò nella sua vita anche l'attività teatrale, nella quale egli rivelò ben presto un'attitudine spiccata per il linguaggio comico. Spesso si dedicò personalmente alla produzione, alla regia e alla scrittura dei testi, compito che peraltro gli era stato affidato dalla corte estense, e si cimentò anche nella rappresentazione teatrale come attore. La strada scelta fu quella del libero rifacimento della commedia latina. Il risultato fu un nucleo di 5 commedie, scritte prima in prosa e poi in endecasilla bistruccioli. La Cassaria del 1508, divisa in 5 atti di stampo terenziano, mette al centro della scena la storia d'amore di due giovani nobili per due schiave. I Suppositi del 1509, che si rilaccia alle Unocus di Terenzio e ai captivi di Plauto, e parte dallo scambio di ruoli tra uno studente catenese e un servo per conquistare una fanciulla. Il Negromante del 1520, è più vicino ai temi della novelistica italiana, è incentrata sulla figura di un astrologo che si trova impegnato in una complicata vicenda d'amore. La Lena del 1528, in cui si mette in luce il personaggio della ruffiana Lena e del servo Corbolo. E poi l'incompleta Gli studenti del 1518, portata poi a termine sia dal figlio Virgilio, sia dal fratello Gabriele. Le cui versioni furono intitolate rispettivamente la scolastica e l'impreffetta. In particolare, la Cassaria inaugurò in Europa il teatro moderno. Fu infatti la prima commedia in volgare a utilizzare regole prospettiche per la scenografia. Comunque, nel suo teatro, Ariosto portò temi comuni e quotidiani, adattandoli alla vita cinquecentesca. Nella sua produzione hanno grande importanza anche le sette satire in terzine, composte fra il 1517 e il 1525 e indirizzate a parenti e amici, mai pubblicate dall'autore. Esse vennero alla luce una prima volta nel 1534 grazie a uno stampatore ignoto, e poi nel 1550 furono pubblicate da Giolito a Venezia a cura di Anton Francesco Doni. Prendendo spunto da fatti e situazioni reali, queste opere mettevano a nudo il carattere e la dignità dello scrittore, che utilizzò un tono colloquiale di derivazione razziana e un lessico dantesco particolarmente incisivo. Ricca di pensieri personali e valutazioni sulla storia contemporanea, le satire si rivelano un prezioso documento per la ricostruzione della sua biografia. Una di esse è dedicata all'esperienza da lui fatta come governatore della Garfagnana, altre parlano dei vantaggi e degli svantaggi del matrimonio, e poi ancora dei suoi viaggi, delle difficoltà di carriera degli intellettuali del Cinquecento e così via. Come le satire, anche le lettere, scritte per necessità impellenti o per problemi personali, contribuiscono a delineare il complesso quadro biografico e artistico della Riosso. Databili tra il 1509 e il 1532, si tratta di 214 testi, la maggior parte dei quali risale dal periodo trascorso in Garfagnana. Scritta in un linguaggio semplice e concreto, esse sono indirizzate prevalentemente al Duca Alfonso. Ma l'opera principale di Ludovico Ariosto è sicuramente quella dell'Orlando Furioso. Il nome di Ludovico Ariosto è legato appunto a quest'opera, mentre le opere minori che abbiamo appena elencato, le liriche latine, le commedie, le rime, le satire, sono state spesso trascurate dai critici, o prese in considerazione solo in funzione del poema cavalleresco. Anche queste opere che abbiamo visto prima, però, non mancano di quella arguta riflessione, quella considerazione pacata tra affettuosa ed ironica dell'umane vicende e quel calore di sentimenti non fittizi né convenzionali, ma sempre tenuti a freno e come velati dal sorriso superiore dello scrittore, che costituiranno tanta parte dell'atmosfera poetica dell'Orlando. Certo, la storia della composizione e pubblicazione del Furioso è una delle più complesse e interessanti della letteratura italiana. Scritto in ottave e formato da 40 canti, il poema fu edito nel 1516. Poi, dal 1521, fu sottoposta a una continua revisione. Nel 1532, infine, fu pubblicato in una nuova redazione di 46 canti con l'aggiunta di quattro episodi e con rilevanti interventi stilistici e linguistici. In particolare, tra la seconda e la terza redazione, l'autore lavorò per aderire alla teoria espressa da Bembo nelle prose del 1525. E poi, parte delle aggiunte andarono a costituire il nucleo dei cinque canti, un lungo episodio che aggiungeva complicazioni politico-militari all'ultima parte della vicenda. Ora, per la sua opera, Ariosso ripresa un genere letterario molto noto e amato dal pubblico, quello cavalleresco, nato nel Medioevo e ritornato in voga tra 400 e 500, rindovandone però senso e contenuti per andare incontro all'esigenza del pubblico rinascimentale. La materia cavalleresca, quindi, diviene un contenitore nel quale la realtà contemporanea si fondeva con l'elemento fantastico e era puntellata dagli interventi dell'autore, che con ironia e senso critico forniva al lettore di volta in volta una nuova chiave di lettura. L'opera, abbiamo detto, fu dedicata al cardinale Eppolido d'Este e concepita in effetti come un'opera encomiastica per i signori di Ferrara. La trama dell'opera continua la trattazione di Boiardo sviluppando tre nuovi principali. Innanzitutto, la vicenda amorosa tra Dio Orlando, Paladino del Re Carlo, e Angelica, principessa del Regno Orientale del Catai, un tema, quindi, di matrice cavalleresca. E questa vicenda amorosa è sicuramente quella centrale del poema. La fuga di Angelica dal Paladino e dagli altri suoi ammiratori avvia la narrazione. Nel tentativo di raggiungerla, Orlando dovrà affrontare numerose avventure. La donna sposerà Medoro, un pagano, causando la follia di Orlando, da cui il titolo del poema, e sarà compito di Astolfo, secondo la volontà di Dio, fare risanvire Orlando, per cui, accompagnato da San Giovanni, Astolfo si reca sulla Luna, dove si trova tutto ciò che si è perduto in terra, per recuperare il senno di Orlando. Secondo nucleo è la guerra tra cristiani e seraceni presso Parigi, elemento epico, quindi, con la vittoria finale dei cristiani. Terzo nucleo, l'amore tra Bradamante, guerriera cristiana, e Ruggero, guerriero pagano, che però si convertirà al cristianesimo, immaginati come i capostipidi degli estensi, qui c'è il temaro encomiastico. Centro geografico di tutto il poema è Parigi, dove prende avvio la fuga di Angelica, e poi ha luogo il duello conclusivo tra Ruggero e Rodomonte. Ora, in quest'opera, nessuna vicenda ha uno svolgimento lineare. Ogni episodio risulta compiuto e autonomo, ma perfettamente integrato con gli altri in un equilibrio armonico, dove tutto avviene contemporaneamente. In tal modo, l'autore intende sottolineare la natura complessa delle relazioni tra gli uomini, per cui, dietro ogni cosa, si cede il suo contrario, così come spiega il motto pro bono malum, posto a sigillare l'intero poema. Il tema dell'eroismo percorre tutta l'opera, specialmente le scene di guerra, ma vi si affianca quello della follia, che compare fin dal titolo del testo, e naturalmente in primo piano c'è la pazzia di Orlando, ma anche gli altri personaggi non ne sono immuni. Alla radice di questo insano sentimento c'è il desiderio di oggetti irraggiungibili, dice Ariosto. Ogni uomo cerca qualcosa di impossibile in una generale e costante cat-cavalleresca, che diventa un gioco di fughe e di inseguimenti, ecco il principio dinamico dell'azione. I personaggi sono umani nelle loro debolezze e nelle loro grandezze, in un continuo rimando di realtà e finzione, senza confini, dove anche la fortuna e il caso giocano un ruolo non secondario, secondo una concezione laica della vita. E allora la magia produce immagini ingannevoli che alimentano la follia dei personaggi, per cui l'esistenza di ognuno diventa un susseguirsi di sogni e un continuo perdersi, nella consapevolezza che errare è una condizione ineliminabile del destino dell'uomo. Nell'opera di Ariosto, dunque, si fondono quelli che sono i due cicli cavallereschi, quello epico, religioso e feudale e quello d'amore e d'avventura. In una girandola di innumerevoli luoghi, vicende e personaggi che sono come i fili di una fittissima trama che il poeta, con maestria e disinvoltura, riuscì mirabilmente ad annodare. Spesso Ariosto interrompe la narrazione di una storia all'improvviso proprio nel momento culminante per raccontarne altre e poi riprende inaspettatamente quella interrotta, rivelando così una sapienza compositiva che sa ben dosare e graduare gli effetti e una mente educata classicamente, attenta a raggiungere quella compostezza suprema che le veniva dall'insegnamento dei classici e alla quale era indotta dalla sua adesione alla società aristocratica. I signori della corte estense videro riassunta la loro vita nel primo verso del poema Le donne, i cavalieri, l'arma e gli amori. Per essi occorreva una poesia che non li costringesse a ritirarsi pensosi dinanzi al dolore e alla morte e che non impegnasse troppo i loro cuori nel gioco delle passioni e dei sentimenti. Perciò Ariosto, con i suoi cavalieri erranti, le donne fuggenti, le magie, i duelli, le avventure, rappresentò la vita sotto la specie della cavalleria che riacquisò così un'attualità rispecchiando l'anima delle corti italiane del rinascimento. È la cavalleria, infatti, lo scenario sul quale il poeta proietta le forme della moderna sensibilità rinascimentale, fondata sulla piena rivoluzione della vita terrena e soprattutto dell'uomo, della sua intelligenza, della sua libertà e poi sul gusto e sull'estetica classica, intesa nel senso più profondo del termine, ovvero come equilibrio dello spirito e della fantasia, come espressione universale del bello. Pertanto, nessuna vicenda assume una posizione predominante o accentra in sé l'ispirazione poetica, ma tutte insieme, intessendo i freggi di una tela infinitamente mutevole e varia, in cui, come in un mosaico, ogni tassello è al suo posto, si raccolgono intorno ai tre nuclei principali del poema che abbiamo detto, ovvero la guerra fra i mori cristiani presso Parigi, la passione tra Ruggione e Bradamante e l'amore per Angelica con la conseguente pazzia di Orlando. L'opera del Boiardo si era interrotta poco prima dell'inizio della battaglia quando Carlo Magno aveva affidato Angelica a Namo per poi assegnarla a chi dei due, fra Orlando e Rinaldo, si fosse distinto maggiormente in combattimento. Da qui Ariosto inizia la sua narrazione non per esprimere la sua ironia sul mondo cavalleresco come ha sostenuto la critica romantica, ma perché quell'universo gli offriva una materia ricca e varia, un palcoscenico su cui far recitare i suoi diversi personaggi. E se egli apparentemente non prende in maniera diretta a parte la loro vita e le loro azioni, ma con affettuose nonie indulgenze li guarda a distanza, è per far sì che i toni e le passioni si smorsino e rendano possibile la coesistenza degli elementi più disparati che si fondono nella sua mirabile ottava. Un'ottava che fluisce così calma e piena, in se stessa compiuta, senza urti, senza stridori, senza improvvisi mutamenti di tono, con un suo ritmo così agevole e sciolto da poter essere confuso con i modi dimessi della prosa narrativa, mentre a guardar bene appare il ritmo stesso e la musica dell'eterno fluire delle cose, una creazione nuova e perfetta che si distacca da tutti gli esempi antecedenti e attua per la prima volta la piena fusione del discorso poetico con il metro e la coincidenza del periodo lungo con il periodo strofico. Tale armonia, secondo Pazzaglia, è una conquista morale e al tempo stesso artistico, perché quella visione complessa e vasta, fiduciosa e serena della vita è il risultato di una continua ricerca, di una costruzione sapiente intesa a ritrovare ed affermare un superiore ordine nell'apparente caos dell'esistenza. I contemporanei di Ariosto furono entusiasti dell'Orlando Furioso, che tuttavia, a differenza delle opere di Petrarca e di Tassi, non influenzò gli scrittori e poeti posteriori, per cui non si può parlare di ariostismo come si parla di peterarchismo e di tassismo. Il motivo principale è imputabile al rapido tramonto del Rinascimento e al conseguente cambiamento del gusto letterario. Uno dei problemi della critica successiva sull'Orlando fu poi quello della sua unità. Alla critica illuministica e volterriana, comunque, il capolavoro dell'Ariosto Piacque per gli stessi motivi per cui non convinse quella romantica, ovvero il suo spirito ironico e satirico. Grazie. 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 Grazie.